Attacca il Premier e soprattutto la sua riforma del lavoro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo sul blog e scrive con il suo Job Act, Renzi vuole cancellare i diritti dei lavoratori. C'è Giornandrea Bobbio. Contro la riforma del lavoro, contro il cosiddetto Job Act, che sostengono i 5 Stelle, crea solo precaria vita. È folle pensare di poter creare più lavoro aumentando la precarietà. In questo momento i risultati sono sotto gli occhi di tutti da dieci anni. Le politiche di precariato hanno fatto perdere lavoro e soprattutto chi ce l'ha è molto più incerto. È Beppe Grillo a sviluppare il ragionamento sul blog. La riforma di Renzi prevede che i contratti a tempo determinato possano essere prorogati senza causale fino a tre anni. E questo, secondo Grillo, equivale a rendere stabile il precariato. Non è un caso che l'attacco arrivi mentre Renzi è a Bruxelles. E infatti proprio l'Europa, continua il leader dei 5 Stelle, a suggerire questa riforma del lavoro. Si sta barattando la diminuzione dello spread con la riduzione in semischiavitù degli italiani. Tutto questo nel silenzio dei partiti di sinistra e dei sindacati. Intanto i parlamentari del movimento insistono nel chiedere che Renzi dia spiegazioni sulla vicenda della casa che usava Firenze quando era sindaco della città. Appartamento preso in affitto da Marco Carrai, imprenditore e amico del presidente del Consiglio. Il capogruppo in Senato Sant'Angelo ha chiesto che Renzi riferisse in aula, richiesta respinta.